La quarta avventura molisana in Serie A2. Dopo il Cus Molise e l'Esernia, l'Esernia C5, campionato questo poi non concretizzato, anche il CLN Cus Molise conquista l'accesso alla seconda Serie Nazionale del Futsal, al termine di una cavalcata trionfale, sinonimo di successo nei play-off del girone D della Serie B. Ieri, in occasione del ritorno della finale contro l'Eta Beta Football, dopo il 2-2 dell'andata a Fano, il quintetto di Marco Sanginario si è imposto per 3-1 in un pala unimo al vestito a festa. Decisivo ancora una volta è stato il brasiliano Barrichello, autore di una tripletta. Il giocatore con la maglia numero 24 mette a segno l'unica rete realizzata nel primo tempo con una bella iniziativa personale. Poi, nella ripresa, su assist del col nazionale Everton, il funambolo sudamericano raddoppia. Un autogol di Cioccia lascia un po' di suspense, ma, con il gioco a 5 avversario, è ancora Barrichello a punire i marchigiani e regalare al team una gioia particolarmente profonda. Grazie a tutti.